Adesso ci sono i ragazzi del nostro talent che abbiamo incontrato, una parte, quindi un gran galà, una parte dei ragazzi del talent di tutto l'inverno e quindi bravissimi, veramente dei ragazzi straordinari per veramente ringraziarli tutti che fanno parte anche del Festival di Roma Live, organizzato naturalmente, li abbiamo qui gli organizzatori, da Marco Petrozzi, da Luigi Notte, Antonio Buldini, bravissimi! Bravi, grazie!